Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo di input output, ovvero delle modalità con cui è possibile in Java andare a leggere e scrivere verso diverse sorgenti destinazioni. Tutte le operazioni di input output in Java vengono svolte attraverso un concetto astratto che è quello di stream, ovvero flusso di elementi. L'idea è che le stesse operazioni, leggi o scrivi, vengono fatte in maniera sostanzialmente indipendente, almeno dal punto di vista del programma, sia che io vada a scrivere o leggere su un file piuttosto che sullo standard input, standard output, su una connessione di rete, su una connessione ad esempio USB con un dispositivo. in pratica io utilizzo una serie di metodi di alcune classi predefinite, tutte molto simili, che astraggono i dettagli della operazione effettiva di input output che viene con una certa sorgente destinazione. Tutte le classi che permettono di fare l'input output si trovano all'interno di un package che si chiama java.io e si dividono in due grosse famiglie. La prima è quella che riguarda gli stream, ovvero l'input output di caratteri, che come ricorderete in java sono codificati come caratteri unicode su 16 bit con la codifica UTF-16. Ci sono due classi principali in questa famiglia che sono reader e writer, che permettono per l'appunto di leggere e scrivere caratteri. L'altra famiglia è quella che è orientata ai byte. In questa famiglia le due classi principali sono input stream ed output stream. Quindi vedete che in entrambe le famiglie ci sono una coppia di classi che permettono la lettura e la scrittura. Queste classi, come pure quelle che da esse derivano e le altre classi che sono all'interno del package java.io, segnalano qualunque errore o anomalia attraverso delle eccezioni e che fanno capo a una classe di base di eccezioni che si chiama ioException. Come funziona la suddivisione in due grosse famiglie? Sostanzialmente una volta che noi abbiamo i dati possiamo andare a leggerli o a scriverli focalizzandoci su dei byte utilizzando degli input o degli output stream. In questo caso non viene fatta nessuna codifica. I byte presenti nella nostra sorgente o destinazione vengono scritti o letti attraverso queste classi. In alternativa è possibile andare a fare delle operazioni di lettura e scrittura di caratteri. In questo caso è coinvolta un'operazione di codifica o decodifica perché a seconda della codifica che viene utilizzata per i caratteri questi possono dare origini a diverse sequenze di caratteri. ad esempio se immaginiamo di avere una codifica di tipo unicode la coppia di byte c3 a 8 viene letta o scritta attraverso degli input o degli output stream come due byte, un byte c3 e un byte a 8. Se invece utilizzo un reader o un writer questa coppia di byte viene interpretata come un'unica quantità di 16 bit che corrisponde al carattere e accentato con la codifica utf 8 e quindi verrà trasformato in un carattere che è la e accentata a disposizione del mio programma. Quindi è ovvia la differenza tra leggere un carattere e quindi sfruttare un'operazione di codifica ed eventualmente decodifica nella scrittura oppure andare a leggere dei singoli byte che ovviamente poi devono essere convertiti in qualche modo in questo carattere. Nella famiglia orientata ai caratteri la lettura avviene tramite i metodi definiti in una classe di base che si chiama reader. Questa classe ha tante sottoclassi che permettono di andare a fare un'operazione di lettura con delle caratteristiche particolari oppure da una fonte diversa. Ad esempio esiste un char array reader che permette di andare a leggere i caratteri da un array di caratteri oppure esiste un file reader che permette di leggere i dati da un file oppure uno string reader che legge i dati da una stringa. Tutte queste attività di lettura che siano da un file che siano da una stringa vengono fatte esattamente allo stesso modo rendendo trasparente qual è l'effettiva sorgente dei dati. I principali metodi che possiamo trovare all'interno della classe reader sono quelli che vediamo illustrati qua. Abbiamo un metodo close che permette ovviamente di chiudere il nostro stream di caratteri e poi abbiamo un metodo read che è fornito in tre varianti. Una prima variante che semplicemente legge un singolo carattere e restituisce il valore meno uno quando abbiamo raggiunto la fine del file. Un'altra variante che sostanzialmente legge i dati all'interno di un buffer. Questo buffer è costituito da un array di caratteri e poi c'è una variante di quest'altra che utilizza un buffer ma non parte dalla prima posizione ma bensì parte da una posizione predefinita. Questi metodi tendenzialmente sono blocking nel senso che quando io faccio una chiamata a un read se non c'è nessun carattere disponibile ad esempio perché sono in fase di lettura il disco oppure la connessione di rete non rispondono velocemente quel metodo si blocca finché il carattere o i caratteri non sono disponibili. Altri metodi disponibili all'interno della classe read sono il metodo read che mi dice se effettivamente in questo momento c'è almeno un carattere che io posso leggere ed è utile se ad esempio sto leggendo da una connessione di rete in cui sto aspettando dei dati per cui non so se questi sono arrivati. Reset che sostanzialmente riporta lo stream all'inizio utile se io voglio ripartire nella lettura di un file da capo e skip che sostanzialmente salta un certo numero di caratteri prima di darmi quelli successivi. Come faccio a leggere un singolo carattere? Allora un singolo carattere letto tramite il metodo read. L'aspetto interessante del metodo read è che noi ci aspetteremo restituisca un carattere in realtà restituisce un intero perché? Perché sostanzialmente il metodo read deve poter andare a codificare una condizione particolare nel suo valore di ritorno ovvero il fatto che sia stata raggiunta la fine del file. Ovviamente non può restituire un carattere altrimenti quel carattere viene scambiato per un carattere effettivamente valido quindi la soluzione che è stata trovata in java è di restituire un valore intero che codifica nei suoi 16 bit più bassi ma meno significativi il valore del carattere e nel caso in cui sia stata raggiunta la fine del file invece di codificare quello mette a 1 tutti i bit del nostro valore intero che corrisponde al valore meno 1 per segnalare per l'appunto che è stata raggiunta alla fine del file. Ovviamente devo ricordarmi di convertire questo valore intero in un carattere andando sostanzialmente ad estrarre quelli che sono i 16 bit in cui è descritto il carattere e utilizzarli poi per andare a stampare effettivamente quello come carattere e non trattarlo come un numero intero. Se io voglio andare a leggere una riga quindi tutti i caratteri fino alla capo a partire da un reader quello che posso fare è definire un metodo readline come questo che accumula all'interno di neutrin buffer legge un carattere per volta se ovviamente il carattere meno 1 non ho nessuna riga da leggere altrimenti finché il carattere che leggo è diverso dal meno 1 lo converto in un char ricordiamoci che reader restituisce un intero se è un a capo termino il ciclo se si tratta di un carattere diverso da break the share cioè il ritorno di carrello aggiungo quel carattere al mio buffer e leggo il prossimo carattere quando ho trovato un a capo cosa faccio termino la mia il mio ciclo di lettura e vado a restituire il valore contenuto nel nostro in buffer convertito in una string simmetrico rispetto al read troviamo il write quindi da un lato abbiamo la classe reader dall'altro abbiamo la classe writer la classe writer analogamente a quanto avveniva per la classe reader ha tante sotto classi che permettono di andare a scrivere dei caratteri verso diverse destinazioni ad esempio un file una stringa un array di caratteri i principali metodi che troviamo all'interno della classe writer e quindi poi sono implementati nelle sue sottoclassi sono il metodo write che mi permette di scrivere un singolo carattere vi faccio notare che il parametro di tipo intero sostanzialmente per compatibilità col metodo read della classe reader in realtà questo viene comunque interpretato come un semplice carattere e poi c'è il metodo write nella variante che utilizza un array di caratteri oppure un array di caratteri in cui non parte dal primo elemento ma parte da un elemento dato ovviamente visto che molto spesso ci capiterà di scrivere delle stringhe all'interno della classe writer è stato definito un metodo write che accetta una stringa e quindi mi permette di scrivere direttamente una stringa senza bisogno di andare ad estrarre i caratteri che stanno al suo interno ovviamente abbiamo altri due metodi che sono close per chiudere il nostro writer e flash che permette di terminare il nostro stream gli stream di output normalmente quando devono fare un'operazione di scrittura non vanno direttamente a scrivere sulla destinazione il file connessione di rete o quant'altro ma normalmente scrivono all'interno di un'area di memoria chiamata buffer o cache poi quando quest'area di memoria è piena sostanzialmente il blocco intero del buffer viene scritto sulla destinazione questa operazione sfruttando le gerarchie di memoria è molto più veloce piuttosto che andare a scrivere ogni singolo carattere direttamente sul disco o su quell'altra destinazione il punto è che quando un programma termina questi buffer vengono sostanzialmente persi e cancellati quindi è importante ricordarsi di andare a esplicitamente garantire che il contenuto dei buffer di output venga scritto nella destinazione sul file o qualunque altra sia la destinazione e questo può essere fatto con i due metodi close e flash se ci dimentichiamo di chiudere un file o di fare flash se poi vogliamo andare a fare altre operazioni di scrittura sostanzialmente rischiamo di perdere un pezzo del file o completamente il completo contenuto del file se la dimensione è piccola per quanto riguarda gli stream relativi ai byte la classe principale per la lettura è la classe input stream che esattamente analogamente alla classe reader ha una serie di classi che permettono di andare a fare letture con diverse caratteristiche e da diverse fonti la classe input stream ha un metodo read che in maniera del tutto analoga al metodo read della classe reader ha tre varianti una che legge un unico byte una che legge un array di byte un'altra che legge un sotto insieme all'interno di un array di byte per quanto riguarda il primo metodo read anche questo restituirà meno uno nel caso in cui sia stata raggiunta la fine del file analogamente al reader abbiamo un metodo available che mi permette di capire se ci sono dei byte disponibili reset che mi permette di posizionarmi all'inizio sempre che sia possibile ad esempio nel caso di un file oppure usare il metodo skip per saltare un certo numero di byte per l'output abbiamo la classe output stream che definisce i metodi di base che poi sono implementati in varie sottoclassi che permettono di fare output verso diverse destinazioni o con diverse caratteristiche nel caso dell'output stream anche qui come per il writer abbiamo una serie di metodi che permettono di scrivere un array di byte un sotto insieme di un array di byte un singolo byte e poi i metodi close e flash che come abbiamo detto prima sono importanti per garantire che il buffer di output venga scritto verso la destinazione quindi è sempre fondamentale fare un flash se voglio essere sicuro che quanto scritto fino a un certo momento venga effettivamente mandato alla destinazione o un close alla fine della operazione normalmente i vari stream hanno diverse specializzazioni abbiamo le specializzazioni in memoria quindi abbiamo input output non verso un file o una connessione ma fatto in memoria questo può essere utile per poter andare a accumulare in memoria qualche cosa per poi manipolarlo abbiamo i pipe che sostanzialmente permettono di fare delle connessioni tra diversi programmi contemporanei ovviamente abbiamo i file abbiamo gli stream che sono bufferizzati e quindi soprattutto nella lettura invece di leggere un carattere per volta posso o un byte per volta posso leggere un blocco e poi interpretarlo in maniera utile abbiamo la specializzazione di tipo printed in cui abbiamo i metodi di print print e println che abbiamo usato tantissimo per l'oggetto system.out e abbiamo poi gli stream interpretati che sostanzialmente prendono i dati e li interpretano in un certo modo andiamo a vedere innanzitutto un tipo particolare di stream che è quello che permette di fare la conversione tra byte e caratteri. Allora abbiamo l'input stream reader che sostanzialmente è un reader che permette di adattare un input stream alla lettura di caratteri quindi l'input stream reader cosa fa? Incapsula un input stream, fornisce i metodi del reader e quindi permette di leggere dei caratteri e implicitamente che cosa fa? Fa un'operazione di conversione da una sequenza di byte in una sequenza di caratteri. L'operazione inversa viene fatta da un output stream writer che in quanto writer incapsula un output stream e converte i caratteri che vengono scritti tramite il writer in una sequenza di byte. La specifica codifica da utilizzare in scrittura o in lettura per convertire la sequenza di byte in una sequenza di caratteri può essere specificata come parametro del costruttore di input oppure output stream writer. In assenza di questo dettaglio si assume che la codifica sia quella di default di java cioè la UTF-8. Quindi la sequenza di byte viene interpretata come una sequenza di byte che segue le specifiche UTF-8 e quando deve essere generata viene generata una sequenza di caratteri che segue le specifiche UTF-8. Oltre a queste due stream di conversione byte caratteri ci sono una serie di stream sia orientate ai byte che orientate ai caratteri per andare a scrivere e leggere in memoria. Per quanto riguarda i caratteri abbiamo char array reader and writer oppure string reader and writer. Per quanto riguarda gli stream abbiamo i byte array input e output stream. Questi sono utili se io voglio andare a leggere o scrivere all'interno di un'area di memoria passando un reader o un writer a un metodo che quindi non saprà sostanzialmente se sta scrivendo su un disco oppure su un'area di memoria. Quindi l'utilizzo di questa astrazione di stream può essere sfruttata per andare a scrivere ad esempio in memoria invece di scrivere su un disco e poi leggere per velocizzare ad esempio le operazioni. Esistono poi delle classi che permettono di leggere e scrivere dalle pipe che sono sostanzialmente degli stream collegati e nel caso specifico le pipe in java sono molto utili per andare a permettere una comunicazione tra più thread paralleli. Ne parleremo o torneremo su questo quando parleremo dei thread. Le due specializzazioni più comuni degli input e output sono quelli che permettono di leggere e scrivere da file e quindi abbiamo file reader e file writer e file input stream e file output stream. Possiamo utilizzare questi stream ad esempio per andare a prendere un file e copiarlo in un altro. Ad esempio se vogliamo andare a copiare un file di testo possiamo creare un file reader a partire ad esempio dal primo parametro del main e un file writer e poi fare un ciclo che permetta di andare a leggere tutti i caratteri dell'input e finché non si raggiunge la fine del file andare a scrivere sull'output. Ovviamente questo tipo di scrittura è estremamente inefficiente perché vuol dire leggere e copiare un carattere alla volta. Molto più efficiente è se io vado a utilizzare la variante del read che legge in un buffer e ovviamente vado poi a scrivere un buffer. Questo tipo di scrittura è tendenzialmente dieci volte più veloce perché invece di scrivere ogni singolo carattere vado a scrivere un blocco di caratteri uno alla volta, un blocco alla volta invece di un singolo carattere per volta. Talvolta può essere necessario andare a leggere o scrivere da file di testo che abbiano una codifica diversa da quella utf8 che è standard per i file reader e file writer. In questo caso possiamo utilizzare la classe input stream reader per andare a specificare quello che è il modo di codificare o decodificare i caratteri. Per cui posso partire da un file input stream, incapsularlo all'interno di un stream reader, specificare il tipo di codifica in modo da garantire che i byte letti da questo file vengano codificati o decodificati utilizzando una determinata codifica. La stessa operazione possiamo farla per uno stream di scrittura andando a utilizzare un file output stream agganciato a un file e poi incapsularlo all'interno di un output stream writer per il quale specifichiamo il tipo di codifica. Oltre alle tipologie di input e output, ad esempio verso file piuttosto che nella memoria, esistono delle specializzazioni degli stream che permettono di fare delle operazioni di input e di output bufferizzato. Per cui abbiamo ad esempio la classe buffered input stream, buffered output stream, buffered reader e buffered writer. In particolare attiro la vostra attenzione sulla classe buffered writer che ha un metodo che si chiama readline che permette di leggere una linea per volta. Le altre classi, quindi reader normali, non hanno questa possibilità, quindi è un metodo specifico della classe buffered reader che effettivamente per poter andare identificare la capo, quindi corrisponde alla fine della linea, deve necessariamente utilizzare un buffer in cui accumula man mano i caratteri che poi verranno a formare quella che è la linea. Altre varianti di stream sono i print stream che sono una specializzazione degli output stream, quindi vanno a incapsulare un output stream e forniscono due metodi fondamentali che sono print e println che hanno una serie di overload che garantiscono la capacità di scrivere sullo stream qualunque tipo di oggetto, quindi qualunque tipo di oggetto passato a un print o un println verrà convertito in string e però verrà stampato, utilizzando la codifica specifica legata all'outpost stream. Questi due metodi hanno inoltre la caratteristica che le differenzia dal metodo write degli output stream e dei write, per cui questi due metodi non generano una your exception. Nel caso in cui ci sia un qualche problema di scrittura, perché ovviamente io posso legare un print stream a un output stream, ad esempio su file, viene impostato un flag che poi può essere andato a verificare con il metodo checkError. Gli oggetti out ed error definiti dentro la classe system sono per l'appunto istanze di print stream per cui hanno questo metodo print e la variante println che possono essere utilizzati per stampare in maniera agevole i contenuti di un qualunque oggetto. Infine abbiamo una specializzazione degli stream che sono quelli che si chiamano gli stream interpretati. Sono specializzazioni degli stream orientati ai byte e possono andare a incapsulare degli input e degli output stream e permettono di andare a leggere dei caratteri, scusate, dei tipi specifici, per cui possono andare a leggere dei byte, dei caratteri, dei double, dei float, degli int, long, short, andando a convertire una sequenza di byte, ad esempio, in un intero. Attenzione che non stiamo convertendo dei caratteri ma stiamo convertendo dei byte, per cui quando io faccio un'operazione di readint andrò a leggere 4 byte dall'input stream e interpreterò questi 4 byte come la rappresentazione binaria di un intero. Quindi stiamo parlando di rappresentazioni binarie lette tramite data input stream e scritte tramite data output stream. Gli stream possono essere creati non soltanto su dei file ma ad esempio a partire da un url. Qui esiste la classe url in java che permette di andare a definire quello che è un url, può essere costruita a partire da una stringa, e questa classe ha un metodo che si chiama open stream che permette di avere uno stream di lettura legato a un url. Quindi questo permette di leggere sostanzialmente i contenuti di un url. La classe url, come abbiamo detto, permette di rappresentare uno uniform resource locator. Ovviamente il costruttore può avere dei problemi e in questo caso genera una malformed url exception, nel caso in cui la stringa che noi passiamo non corrisponde a un url scritto correttamente. ha una serie di metodi tra cui il metodo protocol, host, port, eccetera, che ci danno le componenti dell'url e come abbiamo menzionato ha questo metodo speciale open stream che apre una connessione per poter leggere il contenuto di quest'url. Quindi si collega a web server, apre la connessione e questa connessione è poi messa a disposizione tramite un input stream e quindi potrà andare a leggere i contenuti. Ad esempio, se vogliamo andare a scaricare un file che è specificato da un url, io posso andare a definire un url come new url mettendo il protocollo http, eccetera, posso creare un oggetto connection a partire da questa url e posso andare, utilizzando questo connection, a recuperare qual è il tipo di contenuto. Se il tipo di contenuto è un contenuto html, allora posso andare a fare un get input stream a partire dalla connessione, posso creare un oggetto output stream che scrive quindi sullo standard output e poi andare a leggere blocchi di caratteri che verranno poi scritti sullo standard output. Quando abbiamo a che fare con gli stream dobbiamo ricordare che questi sono in effetti delle risorse che vengono sostanzialmente utilizzate tramite il sistema operativo. Quindi ogni volta che noi apriamo uno stream, sia in lettore che in scrittura, stiamo consumando le risorse del sistema operativo. Queste risorse sono limitate, per cui ad esempio ogni programma, ogni processo può aprire un numero limitato di file contemporaneamente, per cui gli stream dovrebbero essere chiusi il prima possibile per rilasciare queste risorse. Ad esempio, se voglio andare a leggere la prima riga da un file, dato il path, posso creare un file reader, incapsularlo dentro un bufferhead reader, utilizzare il metodo readline per leggere una stringa, chiudere il bufferhead reader, in modo da rilasciare le risorse, e poi restituire la linea. Il punto è, cosa succede se capita un'eccezione nella readline? L'eccezione termina l'esecuzione del metodo saltando le ultime due righe e quindi la risorsa associata a questo file reader non verrà mai rilasciata. Per questo motivo, ovviamente, dovrei andare a gestire le eccezioni, quindi dovrei andare a incapsulare la chiusura in un try catch, nel caso in cui tutto vada a buon fine, chiudo il mio file, restituisco e poi restituisco la stringa, se invece ho un'eccezione, faccio comunque la chiusura e poi lancio, rilancio l'eccezione. Ovviamente tutto questo funziona non sempre ed è abbastanza complicato, per cui io ho un close qui e un altro close qua, e funziona se io ho un'eccezione di tipo io. Se io da qualche parte, nella readline o da qualunque altra parte, ho un errore oppure una null pointer exception, ecco che questo catch non viene attivato e quindi anche in quel caso non ho il rilascio delle risorse. Quello che potrei fare, idealmente, è mettere un blocco finally in cui, sostanzialmente in presenza di un'eccezione, qualunque sia, prima di terminare il metodo, se il br non è nullo, viene chiuso. Br potrebbe essere nullo per altri motivi, ma verifico e in ogni caso questo viene fatto sempre, in ogni caso. Ovviamente la scrittura è un po' complessa, per questo motivo, nelle versioni più recenti di Java, in particolare della Java 7, è stata introdotta una nuova sintassi che si chiama try with resource, in cui io posso fare un try, metto tra parentesi tonde la risorsa che io voglio tenere sott'occhio e poi con questa risorsa all'interno del blocco try, quindi nelle graffe, vado a fare tutte le operazioni che mi servono, nel particolare vado a restituire br.readline. Il try with resource può essere applicato a qualunque classe che abbia, che implementi l'interfaccia auto-closable. Perché? Perché praticamente questo try with resource, una volta terminata l'esecuzione del corpo, va a chiamare il metodo close sull'oggetto risorsa. Quindi è sostanzialmente simile a questo blocco try con il finally, ma la scrittura è un po' più pulita e nel caso specifico funziona perché bufferedReadReader, come tutti i reader, implementa auto-closable e quindi fornisce il metodo close che può essere chiamato implicitamente terminato il blocco try. Un altro aspetto legato all'input-output è quella che si chiama la serializzazione. La serializzazione consiste nella capacità di andare a leggere o scrivere un oggetto su un qualunque supporto di memorizzazione. In particolare la serializzazione richiede di andare a essere in grado di leggere o scrivere gli attributi di un certo oggetto, separare i vari elementi, quindi se ho più attributi di separarli, se ho più elementi di un array di separarli e soprattutto, quando vado a leggere, di essere in grado di ricostruire gli oggetti del tipo corretto. Queste operazioni di serializzazione e deserializzazione vengono svolte tramite due stream particolari che sono object-input-stream e object-output-stream, quindi lettura e scrittura. Per serializzare io vado a utilizzare il metodo write-object e per deserializzare, quindi leggere, vado a utilizzare il metodo read-object delle due classi object-output-stream e object-input-stream. La serializzazione di un oggetto viene svolta esclusivamente se l'oggetto che passo a write-object è un oggetto che implementa l'interfaccia serializable. L'interfaccia serializable è un'interfaccia vuota, quindi funziona come un'interfaccia di tipo marker, che quindi mi dà semplicemente una caratteristica aggiuntiva che io posso utilizzare per andare a fare un'operazione. Quindi se l'oggetto è di una classe che implementa serializable va bene, altrimenti la serializzazione non può essere svolta. Quando vado a deserializzare, ovvero a leggere un oggetto serializzato, è importante poter andare a ricostruire l'oggetto del tipo corretto. Il metodo read-object mi restituisce un ogget e quindi io devo poter andare a fare un'operazione di cast verso la classe specifica per poter poi chiamare i metodi. Non sempre io sono in grado di sapere qual è la classe specifica, senza utilizzare le caratteristiche di reflection, per cui molto spesso quello che faccio è di avere una classe di base a cui fare il cast e che mi offre i metodi che io voglio chiamare, senza dover andare a fare un'operazione di cast molto più specifica verso la classe vera. Quando faccio un'operazione di serializzazione, la serializzazione viene applicata in maniera ricorsiva a tutti gli attributi dell'oggetto che io sto serializzando. Quindi gli attributi possono essere dei tipi primitivi e quindi vengono serializzati secondo delle regole predefinite, possono essere degli oggetti, dei riferimenti ad oggetti, in questo caso devono implementare l'interfaccia serializable, altrimenti io non posso serializzare tutto l'oggetto, oppure possono essere dei campi che vengono dichiarati come transient e in questo caso non sono oggetti di serializzazione. Qual è il caso tipico in cui vado ad utilizzare un attributo di tipo transient? Quando ad esempio ho un attributo che contiene un campo, un valore precalcolato, ho una cache che mi serve per memorizzare dei valori temporanei, che ovviamente non serve memorizzare permanentemente, ma può essere utilizzata esclusivamente per delle operazioni interne. In questo caso la dichiaro come transient e quindi non deve necessariamente essere di una classe che implementa serializable. Quindi quando voglio andare a salvare degli oggetti che siano serializzabili, vado ad utilizzare l'objet output stream che salva tutti gli oggetti. Tutti gli oggetti salvati sono poi numerati nello stream, in questo modo io non rischio di salvare più volte lo stesso oggetto, quindi se immaginiamo di avere, che so, un array di oggetti, i quali hanno al loro interno dei riferimenti che sono delle stringhe, se la stessa stringa è utilizzata in più oggetti, questa viene salvata una volta sola perché poi vengono numerate. Un esempio di serializzazione è quello che vediamo qui, per cui quando io ho ad esempio una classe student, se dichiaro che implementa serializable, posso andare a definire una linked list che contiene i miei studenti, aggiungerli, la classe linked list implementa ovviamente serializable, e quindi posso andare a creare un oggetto serializzatore che è un'istanza di object output stream costruito a partire da un file output stream e posso utilizzare il metodo write object a cui passo students, ovvero la lista di studenti. Come dicevo, la linked list implementa serializable, quindi io posso tranquillamente chiamare il metodo write object su questo oggetto. Gli elementi all'interno della linked list sono degli studenti i quali implementano serializable e quindi questi vengono automaticamente scritti tutti all'interno del mio file di serializzazione e poi devo ricordarmi ovviamente come tutti gli output stream di chiamare il metodo close per garantire che venga tutto scritto su disco e per rilasciare le risorse. In maniera opposta posso andare ad avere un oggetto di tipo, un oggetto della classe object input stream, che chiamo deserializzatore, sul quale posso chiamare il metodo read object. Questo che cosa farà? Mi andrà a restituire un oggetto che io so essere della classe linked list e quindi io posso andare a fare un cast a list di student dell'oggetto recuperato e quindi a questo punto posso andare a fare tutte le operazioni necessarie. All'interno del package Java.io esistono anche altre classi che non sono necessariamente strettamente legate agli stream ma permettono di andare ad operare sul file system. La classe principale è la classe che si chiama file che rappresenta per l'appunto un file che si trova sul file system. Ovviamente è un concetto astratto quindi è in grado di rappresentare sia dei file che dei directory. In generale io posso andare a costruire un file a partire da un path name. Questa classe file ha una serie di metodi ad esempio create, delete, exist per andare a creare, cancellare a vedere se esiste un certo file system mkdir per creare una cartella per operare sui nomi quindi getName, getAbsoluteName e altri metodi ad esempio length per avere le dimensioni oppure listFiles per avere l'elenco dei file se l'oggetto file in questione corrisponde a una cartella. Giusto per capire come funziona un esempio è questo io posso creare un nuovo oggetto file a partire dalla stringa punto quindi vuol dire crea un file che rappresenta la cartella corrente e poi utilizzo il metodo listFiles che mi restituisce una lista dei file contenuti nella cartella. A questo punto per ogni file contenuto in questa lista io posso andare a prendere il nome e la lunghezza e questo sostanzialmente va a elencarmi tutti i file contenuti nella cartella corrente. L'operare con la classe file e i suoi metodi è un po' complicata per questo nelle recenti versioni di Java sono state introdotte le nuove classi che vanno a far parte di un package che si chiama Neo, New I.O. Ci sono alcune classi che permettono di andare a operare sui path e sui file e altre classi che permettono di definire nuovi concetti quello di buffer e quello di channel che garantiscono una migliore efficienza nella lettura e scrittura dei dati.